Sono 25 i convocati da mister Panarelli per il derby dello Iacovone contro il Foggia, pienamente recuperato il difensore Benvenga, oltre all'attaccante Oggiano che ha scontato il turno di squalifica. Nella conferenza stampa della vigilia alla gara abbiamo ascoltato il tecnico rosso-blu Luigi Panarelli e il difensore Jimmy Allegrini. Una sfida importante, una sfida di cartello, una partita di altri tempi, due società che si rincontrano qui allo Iacovone e mancava da diversi anni, è sempre una sfida di prestigio. Però andando nel dettaglio, una partita che incontriamo una squadra di giocatori importanti, una squadra dove fa dell'agonismo la sua arma migliore, nonostante esprime anche un buon calcio. Mancano dei giocatori ma ne terminano la squalifica altrettanti giocatori importanti perché è una rosa molto ampia, rientra Cittadino, Salines, Fumagalli, Anelli. Quindi anche se mancano due giocatori ne rientrano quattro di potenziali titolari. Però noi dobbiamo pensare a noi di fare una gara maschia. Abbiamo preparato la partita al meglio e dobbiamo trarre da questa settimana il massimo risultato per la partita di domani. Vogliamo soprattutto riprendere quello che abbiamo perso l'andata. Sappiamo che, sapete tutti, che partita è stata, le vicissitudini che sono successe, anche che hanno un po' condizionato le polversi della partita. Noi, al di là della partita dell'andata, comunque siamo in un buon momento psicofisico, quindi siamo pronti per disputare questa partita. Sappiamo che è una partita difficilissima, importante, ma come lo saranno tutte le partite da qui alla fine. Noi ci metteremo tutto quello che proviamo giorno dopo giorno. Sicuramente sono convinto che sapremo dire la nostra se facciamo quello che il mister ci dice di fare. Grazie a tutti.